Stefan, le rivolgo alcune domande e poi passo la parola al pubblico. Lei in realtà ha fatto, questo è il suo primo lungometraggio, i suoi primi corti sono stati presentati in diversi festival, Venezia, Locarno, Cannes se non mi sbaglio, però lei non è soltanto un regista ma anche fotografo e pittore. Allora io intanto volevo capire se queste arti si assomigliano, si richiamano e com'è stato il passaggio da un lavoro in solitario, perché immagino che fotografo e pittore si possa fare da soli, a un lavoro in cui una squadra è assolutamente imprescindibile. La pregunta è come è stato il passaggio dalla solitudine a un lavoro di gruppo, credo che sia un passaggio importante in una materia espressiva. ha studiato in la scuola dell'arte di Stoccolmo e in questa scuola, che era nel anni 80, non dovevo sapere fare cose e solo pensare e creare concepti. E perché in questa epoca il Stato aveva dinero, quindi tu potresti avere un progetto e prendere persone per farlo. quindi questo mi ha aiutato molto per poter fare film dopo, e non tanto stare nel tavolo e pittare. perché quando pittai stai molto in la sua cabeça, quando facessi cinema, quando facessi film, ti piace stare in la sua cabeça, ma è impossibile. Quindi devi comunicare molto, ma è diverso e complicato, perché è come che tu stai lavorando un montone di tempo, come ora con il Menendog, che mi ha fatto 7 anni per farlo, quindi ti metti con gente che entra nel tuo progetto due giorni, tre giorni, due settimane, un mes, due mesi. Quindi tu hai la sua cabeça un poco loca e la gente a volte non può capire. e questo credo è lo più difficile, di conoscere con la gente che ha altre dinamiche, e al stesso tempo tu hai fatto 7 o 8 film. e tu stai solo con il tuo progetto tutto il tempo. Mi ha aiutato il fatto di aver fatto i miei studi a Stoccolma, alla scuola d'arte, insomma, all'università, negli anni 80, in un momento in cui vi era particolare disponibilità finanziaria a livello statale e governativo, e quindi quello che potevi fare, quello che ti chiedevano di fare non era di apprendere basta cose, ma di riuscire a creare concetti, quindi sviluppare progetti basandoti su quello che era la tua possibile capacità creativa. e questo mi ha aiutato nel passaggio da quello che, cioè questo mi ha permesso di fare qualcosa che non fossero solo progetti solitari appunto di pittura e fotografia, ma mi ha aiutato perché mi ha aiutato anche nell'affrontare proprio le dinamiche del lavoro stesso, nel senso che quando mi ha permesso di andare oltre alla solitudine del pittore che passa tutto il suo tempo nel suo studio o da solo va in giro a fotografare il fotografo, mi ha permesso di superare quella dinamica del lavoro del singolo che sta da solo e che interiorizza tutto, che pensa, che lavora di testa, che è solo con la propria interiorità e il passaggio a una produzione cinematografica a fare un film che potrebbe essere impossibile se tu fai solo una scuola d'arte limitata a pittura o cose del genere perché implica quindi l'uscire dalla propria testa. Vorresti anche facendo il film stare solo con te stesso, ma non puoi perché appunto devi lavorare con altra gente. Quindi la scuola mi ha permesso sia di affrontare una diversa tipologia sulla base dei concetti proprio sia di affrontare situazioni effettivamente più complesse che rappresentano anche questioni di comunicazione. Soprattutto quando succede con un progetto come Man and Dog che ha richiesto parecchia gestazione, sette anni mi ci sono voluti mentre ci sono altri progetti che richiedono soltanto è diversa l'approccio con progetti che richiedono pochi giorni, poche settimane, pochi mesi. Le persone con cui ho dovuto lavorare hai un altro approccio, un'altra testa, la gente deve cercare di capire questa tua testa matta che va avanti per sette anni e impuntarsi su determinati concetti. E quindi è difficile mettere insieme tutte le varie dinamiche e soprattutto lavorare anche con persone. Questo era il mio primo film, il mio primo lungometraggio, la prima esperienza, lavorare con persone che alle spalle magari ne avevano sette, otto. E quindi la complessità è stata quella. E se non sbaglio c'è stata anche una scrittura a più mani. Com'è andata questa scrittura? Anche a distanza, tra l'altro. Quindi avete dovuto scrivere in più persone e in più a distanza. Come ha funzionato questa collaborazione? È difficile, perché prima in 2015 ho avuto la prima discussione con Andrea Pure, che è l'autore del primo draft. E dopo due o tre anni, si è unito con noi con Jörgen, che è anche la coproductora del sueco. E fu difficile perché io e Andrei stavamo parlando e scrivendo in romano, poi traduziamo in inglese, poi in sueco, di sueco a inglese e di inglese a romano. Quindi è stato un processo lungo. Mi aiutò molto la pandemia, perché come gané quattro mesi per stare solo con il guion, scrivendo solo, e per ponermi a me molto nella storia. È stato un processo anche questo difficile e lungo, perché questo è incominciato già nel 2015, quando abbiamo incominciato a parlare con Andrei Eppure, che è la prima persona con cui ho collaborato. E abbiamo incominciato a discutere dei concetti, eccetera. Ed Eppure è stato quello che ha fatto la prima stesura, la prima bozza. Poi dopo due o tre anni si è aggiunta la collaborazione di Orgen Andersson, che è anche coproduttore svedese. E lui stava in Svezia, non in Romania, eppure in Romania. Quindi è stato molto lungo riuscire a sviluppare la sceneggiatura che veniva scritta prima in rumeno, poi veniva tradotta mano a mano in inglese, poi in svedese, e poi viceversa dallo svedese all'inglese al rumeno, proprio perché tutti potessero leggerla. Quindi è stato molto complesso, molto difficile, molto lungo, e mi ha aiutato, devo dire, a un certo punto la pandemia, perché mi ha permesso di avere uno spazio di quattro mesi di totale solitudine, totale rapporto uno a uno con la mia sceneggiatura, a cui ho lavorato, riuscendo a metterci molto di me stesso. Io volevo sapere se i ragazzi hanno qualche domanda da fare. Qualcuno di voi ha già visto il film? Alla fine no? Così allora è un po' complicato. Una domanda. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo chiedere, mi è sembrato che questo film parlasse soprattutto di isolamento, di nazione, quindi ha cominciato, diceva, prima della pandemia a lavorare, ci ha già dato in parte una risposta, mi chiedevo anche quali sono stati i suoi riferimenti, i suoi cinematografici, e non solo vista appunto la complessità del suo lavoro, rispetto anche alle altre arti visive. Grazie. Grazie. Ora stesso è un po' difficile per me per dare nomi e punteare exacto le referenze. Puedo dire che stavo interessato in alcune cose, come alcune referenze della pittura, come cose surrealistiche, cose romantiche, cose fovistiche. E c'è un po' di referenze, e anche ogni autore ha il suo background, e anche le referenze del cinema romano e del cinema sueco, perché mi piace molto il Roy Anderson. E anche posso dire che perché sono un amico molto buono di Cristi Puyo, stavamo parlando toni e toni, un po' di tempo, ma non solo della film, del Men and Dog, dell'arte, del cinema e di molte cose, perché siamo amici del 88, 87. Quindi credo che questo mi ha influenzato abbastanza. Cristi Puyo Più che altro, per me è difficile adesso puntualizzare, diciamo, dei nomi precisi, dei possibili riferimenti. Diciamo che più che altro ho attinto proprio al mondo della pittura, per quanto riguarda soprattutto il surrealismo, il romanticismo, le cose di Fove, ma dipende, soprattutto dipende, ma molti degli artisti, le persone si portano dietro quello che è il proprio background. Quindi questo, senz'altro, è parte di questo background per me anche, in realtà, ha anche riferimenti che sono il cinema rumeno, il cinema svedese, che amo moltissimo. E, per esempio, anche io sono dal 1987, sono grande amico, per esempio, di Cristi Puyo, con cui stiamo continuando a parlare, ma non soltanto di progetti di cinema, ma anche d'arte, di pittura e così via. La risposta c'era anche qualcosa? Ah, ok. Come chiusi diciamo, un... Come tolliamo, perché... Perché la pandemia ha начato, manilos la intenzione e abbiamo fatto a proposito di solito adomnio. Questa settimana stavo solo in casa, non tutto il tempo, ma abbastanza, e stavo pensando, implementando la pandemia, la storia della pandemia, in il guion, perché mi piace di avere la grande storia, qualcosa che è una referenza per tutto il mondo, e dettagli della storia è la storia particolare della famiglia di Doro, che è una storia della cama. Quindi queste due cose vogliono tenere il suo spazio nella storia. Prima di tutto, per inquadrare quello che è il lavoro fatto in questo film, diciamo che dovevamo iniziare a lavorare le riprese il 15 di aprile. In realtà tutto è stato spostato per via dell'arrivo appunto della pandemia, abbiamo incominciato poi il 10 agosto, e in questo slot temporale di quattro mesi me ne sono rimasto da solo, ho chiuso in casa più o meno, quasi sempre da solo, e ho potuto lavorare appunto alla sceneggiatura, cercando anche di inserire, volevo assolutamente inserire quella che era la storia della pandemia, che doveva fare, perché doveva fare da riferimento, da background, da fondale, da sfondo a quella che era, questa era la grande storia a livello mondiale, che doveva fare da sfondo a quella che era la storia più minimalista, diciamo così intima, di Doro e della sua famiglia. Però volevo che rimanesse questo riferimento, diciamo, che valeva per tutto il mondo. La storia quindi di Doro e della sua famiglia, che è essenzialmente dopo tutto una storia di letto, insomma, di tradimenti, e volevo però mantenere questo rapporto con riferimento alla realtà. Visto che questa è la sua prima esperienza da regista, volevo sapere come è stato lavorare con gli animali sul set, quindi con il cane, rispetto agli altri attori. Visto che è difficile, perché tu stai scrivendo qualcosa, ma io saprei che non avrei ottenere tutto quello che stai scrivendo. era come scrivendo qualcosa per raccogliare di che si tratta la storia. In realtà, saprei che il perro va a essere molto independente, quindi noi dobbiamo cambiare le cose, e fare la cosa in relazione che il perro sta facendo. Quello che è successo è che, in realtà, quando uno scrive la segnalizzatura, ovviamente si pensa poi al progetto che ne deriva, si cerca il più possibile di avere sulla carta e poi nel progetto quello che avevi previsto, quello che vuoi. Nel senso, tutto quello che scrivevo serviva più o meno a dare un'idea, a spiegare quello che era il contenuto del film, e poi che doveva essere tradotto nel progetto cinematografico. Lavorare con gli animali, e in questo caso con questo cane, è stato complesso, perché c'è stato un processo di adattamento al contrario, nel senso che non tutto sono riuscito ad ottenere, perché molte volte ci siamo dovuti adattare a questo cane assolutamente indipendente, e a quello che questo cane decideva di fare. Io volevo... Ok, ok. Solo per l'isolamento ancora. Per l'isolamento, la pandemia e anche una situazione come Doro, che è un tio che è più o meno paranoico, mi parecia interessante di presionare a lui con tutte le cose possibili. Quindi la idea di che deve regresare, deve regresare a Göteborg per terminare il suo lavoro, perché... perché... come si chiamano... perché è la pandemia. Era come qualcosa che si può utilizzare per creare una dramaturgia più forte. e per quanto riguarda sempre questo personaggio, insomma l'isolamento, quello che avevo pensato è che utilizzare proprio quello che stava succedendo, proprio per creare un momento, dare un tocco drammatico molto più forte a questo personaggio, che si può considerare un personaggio più o meno affetto da paranoia. Quindi quello che avevo voluto fare è metterlo sotto pressione pesantemente con tutti i determinati avvenimenti, accadimenti, soprattutto quando ritorno appunto in Romania e con questa necessità anche, inserendo anche la necessità di dover fare in fretta, di dover tornare a Göteborg per terminare il lavoro per cui era stato assunto, perché poi si sarebbero chiuse le frontiere, perché c'era il lockdown generale. E questo come mezzo drammatico, ecco l'ho utilizzato per sottolineare questo suo isolamento. Tefan, durante tutto il film, io forse sono l'unica che l'ha visto allora qua, però non andrò a rivelare, cercherò di non rivelare nulla, però diciamo che durante tutto il film si ha un po' la sensazione di stare a metà tra il credere a questa angoscia, quindi capire che è motivata, o il pensare che invece sono solo paranoie. E questo tiene moltissimo l'attenzione. fino a un momento in cui, ma questo non so se l'ho letto io o se c'è, c'è un momento, verso la fine, in cui c'è uno scioglimento di tensione e sembra che la cosa in un abbraccio si risolva. Io ho un po' letto che a distanza le nostre angosce si moltiplicano per mille e con la vicinanza emotiva la realtà torna ad essere realtà. C'è di questo, soprattutto in una realtà di emigrazione, voglio dire, è chiaro che c'è anche questa componente qui, quando si è distanti da casa, ma anche quando ci si torna e che si rimane con la paura della distanza, questo crea moltissime paure. Non so, non so. Per esempio, la cosa che passa nel finale della film è come dare una speranza per noi, perché, per me, la film di Menendog è come un'intenzione di insegnare la realtà, di stare in la cabeça di Doro, e la maniera di fare la film che ha una dinamica, era per acentuar questo tipo di paranoia che Doro aveva. Però, credo che devi come autore dare una chance alla relazione e alla relazione tra la mujer e l'hombre, e che le cose si risolvano. Non so se è vero o no, però spero molto che sia così, sia qualcosa che mi piacere che succedere, che succedere, che succedere. adesso, non so. Beh, in realtà non so. È un qualcosa che forse, in realtà vorrei che succedesse così, vorrei che ci fosse questo epilogo in quella che è la realtà. E questo l'ho fatto più che altro, questa parte finale, per dare speranza, anche a noi, nel senso a tutti coloro che potrebbero trovarsi in quella situazione. Naturalmente nel film, soprattutto la dinamica del film, è teso a sottolineare tutto l'aspetto paranoico di Doro, entrando nella sua testa, quindi questi suoi pensieri che sono affassellati e paranoici. Ma in quanto autore, devo dire che è necessario, l'autore deve dare una possibilità, una chance, ai rapporti tra le persone, e quindi deve dare la possibilità di un possibile evoluzione positiva del rapporto. E questo ho fatto, anche in questo caso. Spero che sia così. a me piacerebbe che fosse così. Credo che ci siano entrambe le cose, sia l'angoscia e la paranoia, che la speranza finale. Io le ho viste tutte e due, quindi, ecco. Otra cosa che voglio dire è che io tuve questa decisione anche perché credo che la relazione generale tra la mujer e l'hombre non è una relazione perfetta oggi in dia. Che c'è un tipo di conflitto, non è real o artificial, ma mi sembra che come speranza deve essere che queste due parti siano junti. con Tarso. Ma relazione generale? General. Ok. E poi ancora una cosa, diciamo che ho utilizzato questo approccio, ho deciso di fare, di utilizzare la dinamica che ho utilizzato, perché penso che al giorno d'oggi in realtà i rapporti tra uomo e donna, insomma, siano piuttosto, non siano così completi, siano piuttosto importati a una certa conflittualità. e questo finale, per esempio, mi dà la possibilità di avere una speranza che i rapporti e le persone, uomini e donne, si ricongiungono in modo tale da creare un rapporto unito invece che conflittuale. Perché mi immagino che quando stavo trabajando nel guion, mi ho immaginato sono due tonti, come noi siamo in situazioni conflictuali, di gelosia, come due bambini, e questo tipo di sensazione mi parecia importante tenerlo, però in la finale come che non so come dicere che queste due persone si incontrano. Proprio per questo, mentre lavoravo al copione, quello che mi è venuto in mente era, cioè io avevo questa immagine in mente di queste due persone, marito e moglie, che erano due, diciamo, abbastanza poco svegli, un po' stupidi nei loro comportamenti, come quando ci sono queste situazioni conflittuali, quando sei geloso, c'è questa gelosia, spinta, che diventa quasi paranoica, insomma ti comporti come dei bambini. E questo ho voluto mantenere, perché fa parte della realtà, ma ho voluto poi anche dare la possibilità di sperare che queste due persone in realtà si rincontrino poi. Bene, Stefan, dobbiamo chiudere. Volevo solo sapere se c'è una, dove vedremo questo film? Oio, a las 4? Sì, in genere poi. Se c'è una distribuzione già prevista? Credo che è una pregunta che deve sponerlo al distributore. Io non so, non so, sono qui per il festival e per vedere la pellicola oggi a las 4? Non so nel futuro che va a passare. Beh, in bocca al lupo. e diciamo che è una domanda che probabilmente bisognerebbe rivolgere alla distribuzione. Io per quel che ne so, non so per quanto riguarda il futuro, so solo che passa oggi pomeriggio alle 4, sono qua anche per presentare il film e poi non so. Grazie per aver condiviso il lavoro con noi. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Take care.